Oggi continueremo lo spacchettamento del booster box di Scarlatto e Violetto Ossidiana Infuocata. Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Kain Universe. Nello scorso video abbiamo aperto le prime 18 bustine del booster box di Ossidiana Infuocata e devo dire che i pool non sono stati per niente deludenti. Vi lascio il link in descrizione nel caso non l'abbiate visto. Oggi concluderemo con lo spacchettamento delle ultime 18 bustine di questo box sperando che il pool si mantenga buono come nel video precedente. Partiamo subito dalla prima bustina per oggi, codice TCG Live per voi e abbiamo un Diglett, Rowlet, Baltoy, Finizen, Dartrix, Frogadier, Stunfisk, Nospas Parallela, Stiny Parallela e un Claydol. Colgo l'occasione per dirvi che nel prossimo video apriremo insieme tutti quanti i nuovi blisters di Ossidiana Infuocata, quindi iscrivetevi al canale per non perdere nessun nuovo video. Abbiamo un Undor, Combi, Diglett, Rowlet, Charmeleon, Excadrill, PG-8, Parbocce Parallela e Undor, illustrazione speciale, anche questa devo dire davvero bella e uno Sizer. Larvesta, Fungus, PG, Litwick, Salazol, Vuktrio, Kangaskhan, Palafin Parallela, Rowlet Parallela e il solito Darkrai che non può mai mancare negli unboxing di Ossidiana Infuocata. Baltoy, Finizen, Larvesta, Fungus, Dragonair, Armarouge, Ortega, Crow Brawler, Houndstone Parallela e un AceQ EX che devo dire mi piace tanto in questa forma terashiftata. Yungus, Charmander, Dratini, Oddish, Whiskash, Plotzel, Umbreon, Excadrill, Toxel Parallela e Scovillin. Spigi, Latwick, Yungus, Charmander, Volcarona, Altaria, Houndum, Carvagna, Oinkolon, Parallela e un Togekiss. Swablu, Glimmett, Tadbulb, Lechonk, Latras, Masquerain, Gumshus, Raim Parallela, Boneslit Parallela e un Togekiss. In UK oggi sono uscite le nuove carte per l'EP1000 di Pokémon quindi a breve farò un video dove le apriremo insieme. Dratini, Oddish, Swablu, Glimmett, Bracius, Magneson, Cramobinable, Cysor Parallela, Evolcarona Parallela e un Parafin. Barboch, Wigglet, Squavet, Palpitod, Pupitar, Dogetic, Ninetales, Vulpix, Parallela, Audino Parallela che è veramente carina e un altro Dark Ray. Ultimamente stanno annunciando nuovi prodotti per il TCG Pokémon quindi penso che prossimamente avremo un altro video dove parleremo di tutte quante le prossime uscite. Wigglet, Mawile, Arven, Toonfisk, Varum, Ponyard Parallela e un altro Pomot EX che abbiamo già trovato se non ricordo male nel video dell'Eat Trainer Box. A proposito delle delite Trainer Box piccolo update dal Pokémon Center fondamentalmente anche se la carta promo era rovinata hanno detto che non hanno nessuna intenzione di darmene un'altra oppure di rimborsarmi in quanto sono utilizzabili nei tornei. Quindi niente, non molto bene. Gryvard, Parallela e un altro Toxtricity. Scuovet, Palpitod, Zigzagum, Citer, Umbreon, Poppy, Lunatone, Glimmet, Herdier e un Entei. Onestamente mi aspettavo un Customer Service leggermente superiore per il Pokémon Center ma vabbè, è andato. Lillipoop, Crow Brawler, Clefairy, Duc Trio, Houndstone, Diggersby, Chandelure, Parallela, Hitmore, Parallela e un Togekiss. Melton, Charkadet, Ponyard, Lillipoop, Dartrix, Oinkolon, Salazol, Bellossum e un Pidgeot EX Special Illustration Rare. Devo dire che è molto carina, mi piacciono molto queste illustrazioni della linea evolutiva di Pidgey. Capisco che sia un tipo di illustrazione che o si ama o si odia ma sicuramente appartengo al primo gruppo. Capsa Kid, Townstore, Cryogonald, Togepi, Kamerupt, Paldian Clotsire, Grambull, PG8 Parallela e Clef. Questa è probabilmente la mia carta preferita di tutto quanto Obsidian Flames escludendo ovviamente i Charizard. Penso che sia davvero bella e davvero azzeccata. Molto 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 bene. Terzultimo pacchetto. Bonesley, Dolive, Thimpole, Grumpig, Bellybolt, Tundurus Parallela, Charcadette Parallela, Gita e Gita. Penultima bustina per oggi. Vediamo se riusciamo a concludere con il botto. Cryogonald, Togepi, Bonesley, Dolive, Scarmory, Vuktrio, Darkmanitan, Flamigo Parallela, Tainamo Parallela e Tundurus. Ci giochiamo il tutto per tutto con l'ultimo pacchetto di oggi. Sperando che non deluda. Magnemite, Eevee, Toad School, Houndur, Bellossum, Pokémon League, Headquarters, Lunatone, Snoopbull, Tinkersby Parallela e un Houndoom EX, doppia rara. Devo dire, molto carina, non male, non male. Non è niente di rarissimo, però è sicuramente una bella fine per questo unboxing. Quindi, ricapitolando, cosa abbiamo trovato oggi? Abbiamo trovato un Ainskew EX, Pomoth EX, Houndur, Illustrazione rara, Igeot EX, A bellissima cleffa, e Houndstone EX. Quindi direi che, assieme alle carte che abbiamo trovato nel video precedente, non posso lamentarmi per niente di questo booster box. Tuttavia, ne apriremo un altro, oltre a tutti quanti i blisters che verranno aperti nel prossimo video. Quindi, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale così da non perdere nessun nuovo video, ricordatevi che troverete un nuovo contenuto ogni giorno sul canale, che sia un video o uno short, sono presente sia su Instagram che su TikTok per altri contenuti, e lasciatemi un commento nella sezione giù in basso per dirmi cosa ne pensate di questi pool. E noi, ci vediamo alla prossima. Ciao!